buonasera a tutti stasera vi voglio fare un piccolo video su quello che per me rappresenta un po' l'arma che per me rappresenta il concetto di cacciatore come lo sognerei io cioè una persona che la mattina si sveglia esce da casa sua prende un'arma il suo ausiliare parte e va alla ricerca di quello che dovrà mangiare durante la giornata per lui e per la sua famiglia quindi questo sarebbe per me il vero andare a caccia cioè senza tanti non vincoli legislazioni che ti dicano da quel giorno a quel giorno puoi abbattere quello e quell'altro sarebbe prendere il fucile e godere di quello che ti offre la natura grazie al tuo ausiliare e alle tue capacità questo oggigiorno non è possibile quindi bisogna stare ligi ai regolamenti di ogni di ogni atc in cui uno va a caccia e per me ecco quest'arma è un po quello che ho sempre sognato da quando ho fatto la licenza di portodarmi per uso caccia che è appunto quello che legge nelle dispense e nei testi il drilling questo che ho qui sul tavolo è il modello della Sauer il 3000 nasceva per le truppe d'assalto nasce come prima arma in calibro 12 due canne giusto apposte calibro 12 e una canna regata 7x65 io per adattarlo diciamo alle mie pratiche venatoriche sono sostanzialmente la caccia con il cane da ferma soprattutto la caccia e la caccia di selezione l'ho scelto in calibro 16 e in 7x57 R perché ahimè non ho mai trovato quello in calibro 16 in 8x57 anche se il 7x57 il padre è comunque un calibro equilibrato e precisissimo perché l'ho scelto in calibro 16 perché io abitualmente vado a caccia con il calibro 20 sono uno di spalla debole e non non prediligo il calibro 12 l'ho abbandonato dopo i primi cinque anni di portodarmi per passare al 20 scelto il 16 perché non ha un rincuro eccessivo come il calibro 12 è il giusto compromesso da molti definito il calibro perfetto l'unica pecca poco diffuso come munizionamento acquistabile in commercio qui mi ho messo quello che che ho trovato sul mercato abbiamo sicuramente baschieri e pellagri che c'ha sempre un po un po di tutta la gamma qui abbiamo delle short range di spezzante più un botto per per la mia caccia di elezione con il cane da ferma che è la beccaccia poi ho un f2 extra piombo 7 extra range una borra filtro 32 grammi ricaricata dall'almeria danesi e la che dite in piombo 7 questo è un po quello che ho trovato a munizione spezzata mentre per la palla asciutta calibro 16 ho optato per delle baschere e pellagri per quanto riguarda la canna rigata per il 7x57 r appunto ho trovato e avevo già provato sull'8x57 le rvs gieger spitzer da 162 grani l'abbiamo provata con alberto al poligono queste due canne di 61 centimetri fanno delle rosate da paura veramente da paura acciaio schule e la canna rigata l'ho attualmente l'ho provata soltanto con la tacca di mirola a 66 metri e ha fatto un foro dentro l'altro che siamo rimasti veramente stupiti sia io che alberto cosa ha di caratteristica questa questa in pratica però ve la avvicino abbiamo due canne giusta apposte e sotto la canna rigata questa molti pensano che sia la sicura ma non è altro che diciamo la leva di azionamento delle batterie quindi si arretrato con leva arretrata l'arma spara il primo grilletto la canna destra con il secondo grilletto la canna sinistra come una classica doppietta se invece io voglio sparare con la canna rigata vado a avanzare la levetta si alza la tacca di mira ok e con il primo grilletto sparerò la la canna rigata la posso sparare con scatto diretto che è regolabile attraverso la sua vite scusate da quest'altra parte ok la vedete meglio così ok qui la sua vite oppure per chi potesse pensare che questa non è una data un'arma adatta alla alla selezione tac classico stecher e fuoco cosa mancava questa ma questa è il modello base quindi a meno incisioni cosa mancava questa arma i famosi attacchi a piede di porco che andavano in voga in quegli anni di costruzione allora per non spendere una generazione visto che io sono uno molto pragmatico che usa le armi per andare a caccia non per guardarle nell'armadio assieme a un maestro artigiano abbiamo montato qui sopra la slitta ribassata della contessa e poi sopra siamo andati con il classico attacco togli metti di contessa con la mia ottica diciamo storica da quando ho fatto l'abilitazione alla selezione alla selezione che unisce diciamo il classico lo swarovski pv2 ad un'illuminazione per tiri diciamo per l'utilizzo per tiri entro i 200 metri che è un'esagerazione per la caccia che sono abituato a fare io e soprattutto anche per il calibro entro i 200 metri riesce ad abbattere qualsiasi qualsiasi animale presente diciamo in italia attualmente la tarata a 150 metri con il dot centrale di modo da essere nei cinque centimetri dentro da 50 a 200 metri naturalmente quest'ottica alla possibilità di essere illuminata e di modificare l'intensità ai classico 4 a è un 3 12 e pesa circa circa 750 grammi che vanno a unirsi a c a circa 3 kg dell'arma più 30 grammi di attacco ok quindi riusciamo a stare sotto i quattro chili e avere un'arma che ci permette di fare qualsiasi caccia a oggi a oggi presente a calendario venatorio abbiamo notato a don alberto che le due canne giuste apposte mentre la canna destra fa delle rosate perfette con con la tacca di mira e mirino la canna sinistra è bassa 3 centimetri a 50 metri e 4 centimetri a sinistra non dovendola io usare per andare a caccia imbattuta sinceramente le munizioni intere a palla asciutta le ho acquistate solo per una questione di denuncia se un giorno mi verrà voglia di usare anche per quella faccia anche perché c'è una canna rigata se voglio fare la selezione la faccio con quella se invece voglio andare col mio ausiliare a caccia tolgo ottica metto due cartucce una dispersante e un piombo 7 come seconda possibilità e me ne vado a caccia ora casomai vi faccio un paio di foto dettagliate cosa che non vi ho detto visto che in sale avevano pensato a tutto questi questi cursori in ottone sono gli indicatori di canna armata ok questo indica la canna rigata il destro mentre i due il destro la canna destra liscia il sinistro la canna liscia quindi tutte le volte che sparate una canna uno di questi corsori che indica la rispettiva canna si abbassa se invece è su vuol dire che l'arma è pronta a fare fuoco la sicura è in in questa posizione ok giù è in sicura su spara ok questo è un po l'arma come si presenta con le sue finiture la faccio vedere un po tutta e poi la classica diciamo visione del drilling con due canne lisce e la canna rigata sottostante questa è un po la rassegna poi lo smontaggio è come un una classica doppietta giusta apposta è veramente in calibro 16 brandeggiabile ne avevo trovata una anche in calibro 12 7 per 65 molto più diciamo calibri molto più in voga e dove si trova munizionamento commerciale di gran lunga superiore al calibro 7 per 57 e al calibro 16 però era già un'arma che partiva dai tre chili e mezzo e a mio avviso per le cacce che faccio io era un'arma eccessivamente pesante se fosse andato a montare anche un'ottica di con una campana per lo meno di 50 è vero che in un'arma come questa sarebbe più indicato un 39 per 42 o 44 molto più leggera e compatta però siccome io faccio in toscana e l'ottanta per cento dei tiri si fanno nella prima e nell'ultima mezz'ora ho preferito avere una campana per lo meno di 50 illuminata perché io sono un amante della dell'ottica illuminata pregi e difetti se secondo me se l'illuminazione non dà fastidio cioè a un dot non abbagliante sicuramente per me da preferire per per la caccia al crepuscolo troppo più intuitiva troppo più facile naturalmente per la caccia che faccio io io non sparo oltre 200 metri anzi lo sparo 350 quindi per me è il giusto compromesso sono felicissimo dell'arma l'ho sempre sognata ora ce l'ho e quindi prossimamente la porterò a caccia perché non vedo l'ora non vedo l'ora di andare a caccia il mio compagno caccia beccace ma già iniziato a dire non t'azzardare a padellare 23 beccaccia a fila come tu ha fatto anni passati visto che con effettivamente con il mio comfort in calibro 20 quest'anno nonostante ci sia pochissimo per ora ho fatto ho fatto il massimo che potevo quindi di qui in avanti e mi superò sicuramente questa è un po la rassegna su sulla sulla sawe che dire a mio avviso è proprio quello e ho sempre sempre cercato diciamo nel mio sogno venatorio quello di partire con l'arma e andare a vedere quello che offre la natura non vedete la cinghia perché un amico il maurizio ciao me l'ha riportata a pochi giorni fa e e ancora diciamo nella custodia classica custodia vintage diciamo in cuoio e niente questa è l'arma sinceramente l'armiere ha fatto un lavoro eccezionale con con gli splendidi attacchi contessa e l'arma già di per sé un po come tutte le armi di quel periodo ha già tutto quello che può chiedere secondo me il cacciatore da marco cadelli è tutto un saluto agli amici di cacciatori giovani ci vediamo poi quando far riuscirò a fare il primo abbattimento speriamo speriamo a beccacce visto che ormai mancano tre settimane alla fine e poi la porteremo a caccia di selezione ciao a tutti ciao a tutti